Oggi la Giunta regionale ha scritto l'ennesima pagina negativa circa il trasporto pubblico locale. Hanno bocciato una mia risoluzione che voleva istituire il biglietto unico per la provincia di Teramo, un servizio fondamentale, assolutamente economico per i pendolari sia lavoratori che studenti che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico locale. Non hanno voluto nemmeno aprire e istituire un tavolo con le istituzioni locali, con i sindacati, con le rappresentanze studentesche e Teramo ha bisogno di un miglior servizio circa il trasporto pubblico locale. La mia risoluzione veniva dal territorio, dalle discussioni, dai confronti con gli studenti, con i lavoratori, con i pendolari, con il comune, con i sindacati. Una istituzione del genere è stata già attivata per la provincia di Chieti Pescara, la possiamo fare benissimo anche su Teramo per migliorare la qualità del servizio del trasporto pubblico locale. Ma purtroppo né Marsilio né tantomeno D'Annuntis hanno voluto questa discussione, questo tavolo di discussione con il territorio e dopo quattro anni di governo presentano una situazione davvero triste, negativa, molto carica di disservizi soprattutto per quanto riguarda la provincia di Teramo e il trasporto pubblico locale.